Giallo, giallo, sempre più giallo, è il giallastro di oggi. Giallo alla mortello. Alla piscina Mortello, in provincia di Vivella, c'era un morto a Bordovasca e un morto in acqua che galleggiava. La gente curiosa e i giornalisti, tutti attorno, formavano un cerchio, il cerchio d'acqua. Arrivò il commissario Spedin, interrogò tutti e mise i voti. Fare il punto della situazione era il suo dovere, mentre informare la stampa quel giorno bolle. Prese un megafono, che era servito ai bagnini, e si pronunciò. L'assassino è? Tutti lo guardarono di sott'occhio. Occhio, anche l'assassino, dal basso in alto lo scrutava. L'assassino chi è? Nessuno rispose. Ve lo dico io, disse Spedin. L'assassino è uno dei morti. Quello a galla in acqua fa il morto. Spedin gli bucò il salvagente e lo affondò. L'assassino, il morto, non fece più e visse in cella vicino alla mortello, in provincia di Vivella. Giallo, giallo, sempre più giallo, è il giallastro di oggi. Buonanotte e sogni d'horror.